Ilaria Dove ha trovato Kim intento a parlare col marito della ballina, con le nozze alle porte, Ilaria e Kim sono stati fotografati da diva e donna mentre trascorrono un pomeriggio proprio con la conduttrice e Guido Mattia Brera, che tiene in braccio la figlia con, l'amicizia è negabile e infatti Caterina sarà testimone di nozze di Ilaria. La spada e Rossi Stewart stanno insieme da otto anni e hanno un figlio, Ettore, che ha da poco compiuto sette anni. .